Grande Fratello VIP, Daniele Bossari, prima parole dopo la vittoria Daniele Bossari alla fine è riuscito a vincere la seconda edizione del Grande Fratello VIP. Sui social, i suoi sostenitori azzardano a parlare addirittura di un vero e proprio miracolo, d'altronde Giulia De Lellis è sempre stata la favorita, in ogni caso, alla fine, i telespettatori hanno deciso di premiare la storia del conduttore. All'interno della casa più spiata d'Italia ha affrontato tutte le sue più grandi paure, facendosi conoscere perciò che anche nella vita reale, in questi mesi, abbiamo anche visto la purezza dell'amore, che da circa 17 anni lo lega a Filippa Lagerbach, a cui ha chiesto di sposarlo proprio a Tristopoli, dove la sua avventura è cominciata. Dopo la lunga e emozionante finale, Daniele ha trascorso la notte con la sua compagna e sua figlia Stella, per poi prendere un treno, che lo riportasse a casa questa mattina stessa. Daniele Bossari, primo messaggio social dopo il grande fratello VIP Daniele Bossari non ha perso un attimo e ha deciso di ringraziare immediatamente i suoi fan, il conduttore ha ripreso possesso dei suoi profili social, ed è proprio sul web, che il vincitore del grande fratello VIP si è lasciato andare alle prime commoventi dichiarazioni. Sono sul treno, un milione di pensieri, un vortice di emozioni, l'adrenalina, la gioia e la commozione non mi hanno fatto dormire, solo ora ho ripreso in mano il telefono, la prima cosa, che mi sento di scrivere è, grazie, grazie a tutti voi, uno per uno. Grande fratello VIP, le emozioni di Daniele Bossari dopo la vittoria Daniele ha cercato di spiegare sui social quanta gratitudine provi nei confronti di tutte le persone, che gli sono state accanto nel corso di questi ultimi mesi trascorsi nella casa più spiata d'Italia. Dentro quella casa non potevo sapere quanto affetto mi stavate mandando, ma ho ricevuto conferma attraverso i messaggi, che mi arrivavano direttamente dal cielo con gli aeroplani. Settimana dopo settimana mi avete permesso di evolvermi e di questo ve ne sono profondamente piaciuto. Grazie.